Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli Cappuccini, carissimi figlie e figlie di San Pio da Pietralcina, radunati in questa notte di veglia davanti al suo saccello, il Signore vi dia pace. Vi porto il saluto della Verna, del convento e dei frati che lo custodiscono, laddove Francesco Sassisi, otto secoli fa, primo uomo ricevette le stimmate. E siamo qui, ecco, per un gesto di devozione ma anche di legame spirituale particolarissimo che lega il nostro santuario, il santuario delle stimmate di San Francesco, a questa terra benedetta, a questo santuario, il santuario dello stimmatizzato del Gargano. Tre anni fa i fratelli di questo santuario sono saliti alla Verna portando l'abito delle stimmate di Padre Pio ed è stata una gioia, un'emozione, vederlo accanto al vetusto saio delle stimmate di San Francesco. Oggi, finalmente, dopo la pandemia, possiamo restituire la visita portando il sangue del costato ferito di Francesco D'Assisi sul corpo. Del suo figlio e fratello, Pio da Pretalcina. In questo solenne vespro che ci introduce a questa notte di veglia, ecco, mentre il sole tramonta, noi vogliamo lasciarci illuminare dall'esempio di santità di questo umile frate che, pur vivendo nel nascondimento di questa terra, di questa periferia, ecco, ha irradiato, irradia ancora oggi luce su tutto il mondo. Io sarei l'ultimo per poter dire qualcosa. Abbiamo ancora vivi i testimoni oculari, i figli spirituali, tanti fratelli cappuccini che hanno dedicato la vita all'approfondimento, allo studio e alla custodia di questa venerata memoria, ecco, che è la vita di Padre Pio. Permettete, ecco, allora, che anche un frate minore della Verna possa dire qualcosa. In fin dei conti, Padre Gemelli ha già fatto una figura peggiore della mia, quindi peggio di lui spero di non farla. Dalla Verna, ecco, viene anche la prospettiva del mio sguardo di figlio, ecco, che guarda al mistero di Padre Pio. Un mistero, ecco, che lui definiva, ecco, essere un mistero anche per sé stesso. E allora, ecco, proverò un pochino, ecco, da figlio di Francesco e figlio di Padre Pio, consentitemelo, ecco, di provare, di gettare il mio sguardo miope sul mistero dell'incontro che questi due uomini, in particolare Pio, hanno fatto con la croce di Cristo. Le stimmate di Francesco e le stimmate di Pio sono diverse nella loro fenomenologia, nel loro manifestarsi. Per Francesco d'Assisi le stimmate arrivano sul finire della vita. Camperà altri due anni. Per Padre Pio, invece, possiamo dire danno l'inizio, ecco, di una fase importante della sua vita, che sarà tutta la sua vita di padre spirituale. Francesco riceve le stimmate al termine di un lungo cammino di conformazione che ha messo in pratica, ecco, cercando di vivere, di incarnare concretamente nella sua vita il Vangelo. Le stimmate sono per lui, come dice Dante, un sigillo di questa conformazione avvenuta lentamente, l'approdo di un lungo cammino. Per Padre Pio, ecco, come dicevamo, invece, ecco, segnano un inizio. È come se il Signore, nella sua provvidenza, avesse voluto pensare questa ideale staffetta tra i due Santi. Francesco vive il Vangelo vent'anni fino ad arrivare alla conformazione fisica delle stimmate e passa poi questo testimone a questo suo figlio prediletto, che è Pio, che inizia dalle stimmate, continuando poi la sua conformazione a partire da quel dono che vivrà specialmente nel suo ministero sacerdotale, primo sacerdote stimmatizzato, che vivrà 50 anni con crocifisso, con Cristo. Ecco, è questa la chiave che voglio tentare di usare questa sera, non per dischiudere il mistero, ecco, di Padre Pio, ma per cercare, ecco, insieme di avvicinarlo un po'. Questa è una notte di luce, dicevamo, e due delle luci principali che ci illuminano guardando e accogliendo l'esperienza di santità di Pio da Petrelcina sono l'altare e il confessionale. Questi due luoghi, questi due tabor, da dove Pio, ecco, appare nella sua trasfigurazione, nel mistero che celebra e che lo abita. L'altare e il confessionale, questi due ostensori che mostrano la presenza di Cristo in questo suo umile servo. Ci sono da voi testimoni, non c'è bisogno che lo ricordi io, quanto particolare era la celebrazione dell'Eucarestia che il Padre Pio faceva. Non devo essere certo io a ricordarvi ecco, come Padre Pio sia stato ministro particolarissimo della riconciliazione nel confessionale. E questo mi viene da dire, ed è questa la meditazione che tento di fare, non solo per la sua grande devozione ai sacramenti. La messa di Padre Pio non era così particolare perché lui aveva tanta devozione nell'Eucarestia, e ce l'aveva. Le confessioni di Padre Pio non erano così particolari ecco, per la sua virtù e basta. E la virtù ce l'aveva. L'altare e il confessionale di Padre Pio sono luminosi perché per grazia è un crocifisso, un concrocifisso con Cristo che celebra l'Eucarestia. È un concrocifisso con Cristo che accoglie il peso del peccato ne cura la ferita attraverso l'assoluzione. Pensavo questo, ecco, durante anche il tempo che ho avuto in questi giorni per sostare nella cripta, Padre Pio celebrava sentendo nelle mani, nei piedi, nel costato il dolore, l'esperienza della passione di Cristo. e quindi riaccompagnava coloro che partecipavano intorno a quell'altare fisicamente sul Calvario. Noi sappiamo che in ogni messa si rinnova questa offerta salvifica, ma Padre Pio celebrava crocifisso con Cristo. Ed è questo, non solo la sua devozione, che rendeva quelle messe non più valide, non più sante di tutte le altre, di quelle celebrate ecco, da un povero frate e peccatore come me, ma più trasparenti del mistero che in esse si svolgeva. pensiamo al confessionale. Era un crocifisso ad accogliere i penitenti, provando nel suo corpo il dolore pagato da Cristo per la redenzione. Questo forse spiega anche la particolarità di certe esperienze di riconciliazione che avvenivano nel confessionale di Padre Pio. La sua esigenza, Padre Pio voleva davvero, ecco, che era davanti a lui, si consegnasse totalmente con disponibilità a quel perdono, perché sentiva nella sua carne ecco il prezzo che Cristo stava pagando in quel momento per quell'anima peccatrice. Anche la conoscenza dei cuori, e qui ci addentriamo nel mistero, era la conoscenza di qualcuno che guardava con Cristo, in Cristo e per Cristo a colui che si inginocchiava davanti a lui. Santa Faustina Kowalska, un'altra grande santa dei nostri tempi che aveva le stimmate nascoste, aveva questa esperienza particolare. Quando le si accostava una persona che non era in stato di grazia, il dolore delle stimmate si acuiva, perché lei sentiva quanto quel peccato costava nella passione di Cristo. Ecco, Padre Pio non ce la racconta questa cosa, ma possiamo immaginare che vivere da crocifisso la passione lo accompagnasse, ecco, e accompagnasse i suoi penitenzi davvero sul Calvario con questa intensità. A noi non sarà dato di partecipare alle messe di Padre Pio. A qualcuno di voi è toccato, ma è in paradiso, vediamo se si organizza qualcosa quando siamo di là. Ecco, ma ciascuno di noi illuminato da questa sfolgorante luce di testimonianza è chiamato a vivere l'Eucarestia, vivendo, ecco, questa, il più possibile, per quanto ci è concesso, ecco, questa consapevolezza del trovarsi nel Cenacolo, ma anche sotto la croce di Cristo, che è Cristo che in quel momento si lascia crocifiggere donando il corpo e donando il sangue. Ciascuno di noi ancora non avrà più l'esperienza di confessarsi da Padre Pio, ma in qualsiasi confessionale del mondo, ecco, dobbiamo accostarci, ecco, come se quella persona fosse un crocifisso che accoglie il nostro peccato. È l'esperienza del buon ladrone, il primo penitente della storia che si confessa con Cristo confitto alla croce. È l'esperienza di tante anime che si sono accostate al confessionale e alla croce di Padre Pio. È bello che il Padre Rupnik nei suoi mosaici rappresenti Padre Pio in confessionale, ecco, però, sulla croce, con crocifisso con Cristo. Però è questo che è offerto a noi nella vita sacramentale. E allora questo diventa una strada. La luce che riceviamo stanotte dalla sua testimonianza diventa una strada da percorrere, un impegno per noi sacerdoti che dovremo domandarci tutte le volte prima di salire all'altare con quale cuore salgo questi scalini. Mi lascio crocifiggere con Cristo in questa celebrazione e lo stesso con quale disponibilità, con quale partecipazione per quanto ci può essere dato, ecco, viviamo anche la celebrazione della penitenza. Ma questo è poi una luce anche su voi laici, sulla vostra vita. Mi accosto alla messa, ecco, come se qui ci fosse davvero Cristo crocifisso che offre il suo corpo, il suo sangue per me. Se questa sera celebrasse Padre Pio a quest'altare non basterebbe il piazzale di Renzo Piano perché la messa di Padre Pio ma quella è ogni messa e voi che affrontate questo freddo siberiano questa sera ce lo ricordate. Chiediamo a Dio allora di poter accogliere l'alto magistero della croce di Padre Pio primo sacerdote stimmatizzato scelto come sacerdote nelle stimmate ecco per ricordarci che al centro dell'altare c'è la croce di Cristo dietro la grata del confessionale ci sono le piaghe di Cristo aperte per accogliere ogni uomo all'ode di Gesù Cristo e del suo servo San Pio Amen Grazie a tutti